Un nuovo traguardo per l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno per garantire ai pazienti il miglior percorso assistenziale possibile. L'ospedale Fucito di Mercato San Severino da oggi può contare su una nuova TAC, la tomografia computerizzata che usa l'intelligenza artificiale. Si tratta di un approccio rivoluzionario per la diagnostica per immagini con l'innovazione del deep learning, l'approfondimento profondo che con tempi più ridotti ed una risoluzione maggiore permette ai pazienti una riduzione della dose radiante molto significativa fornendo una risoluzione migliorata per tutto il corpo con scansioni cerebrali, polmonari, cardiache, muscoloscheletriche, oncologiche, vascolari, pneumologiche ed urologico. La nuova TAC Canon Equilon Prime dotata di intelligenza artificiale è stata installata presso il reparto di radiologia dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino diretto dalla responsabile ad interim la dottoressa Rosa Martora con congiunto impegno organizzativo del direttore generale del Ruggi Vincenzo D'Amato, del direttore medico di presidio Luigi Memoli, del direttore del dipartimento di radiologia Renato Saponiero e del direttore dell'ingegneria clinica il dottor Angelo Marra.